Ma che cazzo? Quello giallino! Che prendi? Bastarda! Che palla! Ma noi abbiamo Ziblia! Senti che bei rumori! Poi fraccia Orianna! Se l'avesse dovuto Giordano sarebbe stato... Ma Giordano non log... Però io voglio un po' altri... altri mussolini Potevo usare l'altro account così si adattava meglio a questi auto Ma sai quanta gente mi contatta quando uso l'altro account? Per le cose! Per scrivermi cose fasciste! Mi dicono che quando c'era lui tutto andava meglio Poi ho imparato anche dei morti ho imparato eh! Non c'è giorno senza luce e non c'è Italia senza luce! 90 anni! 90 anni! Con questo mi contatta gente del 69! Vabbè ma morite allora! Non lo so! Boh! L'unico che ci può salvare è... E' Ashe che dalle legnate tira le bombe addosso a... Dogat! E comunque questo... Questo Zillian mi conviene! Vabbè! Non c'è più! Ma che però! Ver-ver-ver-ver-te le bo- Ma dove vai?! I suicidi in diretta! Ma sono uccidoli! Come fa ancora la giusta di sicuramente? Vabbè! 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 Ma poi suoneteерм vanity! Tu io e meno vita hai più ti racchissi! Si! Non ho tanto giusto di Garan! Com'era! Ma..ma..ma.. Eh! Perchè è la... è la legge di Garan che viene bannato! E' stato bannato prima e si è invesiglato in End. Ma voi non mi avrete Ho da prendermi unasons 유튜� per avere un po di Bra! comunque è triste però siamo io e te che parliamo e basta però non parla mette solo audio Gervasio è morto si è offeso solo perché gli diciamo che non deve battare Garen e poi Garen è un buon tempo qui ci scalpa ti è andata morta ma chi? ti ho salvato morivi se no ti tocca a te vittina e morta no ma te zero millimetri no dei skill di un di un pixel vabbè Gervasio ci abbandona quattro torrentate ci crede però a Stoxx ma Chogat è dall'inizio della partita che ha un HP non so se vi siete accordi guarda Ezz ma guarda Chogat dopo quattro fa mi sa oh guarda c'ho l'urto mi chiede se metterà in mezzo qualcuno ovviamente beh anzi ovviamente è un cazzo a stili belli potrei anche dire che la gente si sposta per non prendere lo stesso e non si fa vedere però ma sono dei maledetti però è morto non prendete le tute ma ne avete preso le tute ma non è possibile ma non è possibile ma non è possibile ti cura visto che ti voglio bene guarda ti sta inseminando guarda ti sta inseminando ma perchè ha preso il mini devo prendere la tute ma non l'ho fatto basta come tu scusa ti ridutti quando a me bastava un auto attack e ti entra per lo casino ahhh guarda questo Chogat mi sono davanti di auto attacco ignorante come trovate aiuto aiuto a tutti al culo ma come mi apri? ma sai che ha perso un figlio? ah no c'è l'altro arviso che non ho collegato gli autori infetti guarda no qua si riuscì a passare in me guarda no ti piace la mia skin frana? sono una sparatrice esperta sparoborra mister bellissima perchè sei tu? perchè hai voluto suicidarti mister? lui scioppa arriva ulti minchia se magari riuscisseva a poter... cioè se potessi tirare una E magari per spostarmi però fisso stunnato eccetera non è vero vabbè dai era anche ora di recontro allora attenzione 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 ma hai fatto una magia hai fatto una magia c'è una tabata si appunto ma non si è visto praticamente si è rimasto con gli stessi a capire ma dai mi ha preso quello di niente non voglio stirarlo ma vabbè ma allora spostatevi maledetto ma che c***o ma che c***o mi fanno tanto male vabbè perdita scioppo guarda 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 nooo maledetto e neanche questo ma dai ma siete bastardi ma lasciatemi fare un po' di minion per aca ecco madonna ti ho salvato ma dai ma ciò come si è salvato? maledetto heal e che ho fatto la cattata di valido obbio schiccio e vieni asce di m***a ma ecc c***o 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 ricordiamo tutti degli ulti se dai fra va che generoso questo ti lascio il se vuoi far uno contro uno che tu con due hpi io Bull In contemporanea mi ha così solo un skill unico Ma dico perché in MSB Slane e dopo eri atto OH 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 Uuuuh che salvatatto Nooo volevo prendere io Vedi che siamo potenti, Zylian ci salta la parrilla io mi faccio colpire il tiro no guardalo come è rimasto a entrare attenti e Ale ci saluta nooo non me lo so vabbè se ci raccoglio io questa volta sembra eee fra eeeh un volo nooo ma ci lascio anche Zegna aaaaaa ma si ero fuori dalla ahhh fruttalo merda ne altri ho capito di sputti ha completato la sua iapulazione pre mi è meglio che muoio adesso si è pure flash up vabbè vabbè io no 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 c'è un po' di attacso eeeh eeeh io ho posto in termista e mi suiciderebbe adesso eh mister ma la quarta è mattata ma nooo tiraci il nuovo di eeeh eeeh ma no non c'è che no mi è mi ha scusi ma no non riuscivo a prendere l'attargetare con la mezza di da ma no ma no svolpa li ha il percorso Vedete in mezzo Ash? Io spero che il gatto ti mettessi in mezzo e morisse lei Adesso resterà così per qualche minuto Allora siamo grossi Mi smentisce nel giro di un secondo Una carta a caso che ho vista Era proprio a caso quella carta Ammettilo Sono le carte migliori Eh sono quelle che danno soddisfatto Se tu tira una carta che aveva un senso la gente l'aveva Invece se la tira un cazzo Beh ovvio ha un senso anche quella Ah ecco perchè non Ero sulla riga di tasti sbagliata Stavo formando D al posto che Ecco E al posto che esco Eh si perchè avevo molato la tastiera Non è che sono con le dita sempre sulla tastiera Poi quella del portati a tutti i tasti attaccati C'è l'uno attaccato all'F1 Infatti mi sono presa la tastiera esterna Ma la purtroppo non lo so Tiriamo un ulti a caso Vediamo se qualcuno la vuole parte Nessuno vuole salvare Tota Sì Venni con lo snufa un po' Allà Uh uh Ecco Qualcuno Il demonio Lo demonio Lo demonio Questa era ad enzeral sempre con quei due hp non avrete questa torre dai no dai ma bastardo mister dammi una mano però sai che cazzo fa che scappi mi abbandonano mi vogliono mi vogliono morto attenzione al contrario e ti ha tirato l'ultimo ti ha fatto praticamente un 360 asci e ti ha tirato lui è stata una grandissima mossa però eh si di giustezza di grave perché ti faccio il campo minato qua perché sei strunante madonna 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 le piglia tutte e sarà bravo zix e c'è gli stigliano a mettere quelle cazzo delle bombe però faccio tuttana e si le piglia tutte anche quelle dei gatti e or oh demonio che male sfruttano ma senti che forse va anche uno secondo questi sono immortali guarda quanti HP hanno tutti fumo ma qui e c'era c'è un Ranger della madonna guarda che è nel gesto Oh, oh, e vabbè, qualcosa di più Che cazzo Dovevi andare quasi su Chogal qua Eh, questi qua c'hanno il range presente da parte a parte della mappa Ma come non ti ha preso con quella skill? Eri sopra Ma che scompa Tu, il felice che lo aveva scompa Dai cazzo, ma perché non hai scoppa da vietarli per valore Ogni volta che mi arrivano a tiro Adesso ho targettato per farlo andare Devi morire Gli abbiamo, li abbiamo Ancora l'ultima, cazzo, ma te la fissa questa porta Grazie, Zileano Io vorrei anche agire, c'è una volta che si fa Cioè, sono morto Ma che hai visto? Non poter farlo morire Siamo morti uno più scemo dell'altro, praticamente Ma ti giuro, io sono nato Ma perché, ma perché Zilean era lì? Non so Non poter fare Neanche tirare il mio auto-attack che avrà in questione adesso No Niente Perchè non puoi comprarti le scarpe? E vendi quelle cazzo di potte, ma scusa eh E cazzo te ne fai ancora delle potte al vento eh E vabbè E vabbè Inizia ad essere un po' troppo grosso eh, questo Togart Mi piace la pianta, la pianta se il tirammi le ulti a me? Oh Nooo Ha evitato tutti Tutti che si defilano E pam in faccia proprio E prego fram, attenzione Per evitare che gli estilino qualche kill Spara di tutto nel nulla E poi Vieni in yoga, poca p***a Vabbè Zilean un po' sopravvinto oh prima ulti su di me sono emozionato sono emozionato in Togat chi è stato Togat ha primulti di Zidon su me ah anche a me nell'azione prima l'ha fatta su di me per la prima volta sei ricordato che forse può usare anche su gli altri ciao no dai lì al bastardo vabbè stai usciti a fare inibitori è un grande pasto ah grandissimo ma non riesco eh vabbè ma una corsa contro il nulla va beh io guarda ti raggiun po' Edra due colte ma qua Edra ha solo vampiri guarda la build cazzo te credo che non va giù cioè ha la bloodthirster e anche la botrk allora con un colpo si recca al 200mila per cento diventa full vai mister sei tutti loro tira un multi a caso non morire la bloodthirster la bloodthirster dai 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 e fattito dai 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 cazzo dai 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 che fatica ho veduto Medical Adesso me la faccio anch'io Faccio la stessa build di Ezra Ho servito Oh prendete sto cazzo di Chogat per cortesia Se cazzo neanche il Baron dura così tanto Aie Ma dai non ti sei salvato un po' perché mi ha fatto l'uso Porco Dio E vabbè E per saperti stai morando tu Via mister Io il primo che vedo tiro un ultimo Primo che ero Attenzione ci muore lo stesso Ashi in uno contro quattro E adesso andiamo di Botrk per da Bastardi che mi usano le tupole Mister difendi con la pelle Vivi Pitone Viva il C Ma non te su Chogat Non te c'è il bello bello Sera Zilean non c'è poi Zilean è FK Guarda che è Tragonda che si recca a mani Dai Zilean torna porto canna cosa fai Io sto tempestando di trappole la base Neanche Teemo nei giorni minuto poi Neanche tutti che si fanno spiegati dentro Ma si si prova sempre Non ho capito che prende le niente Sopra Mi prende di una mura Io mi prendo mura 5 trappole in sacotta Oh è arrivato Zilean possiamo capire Devo fare qualcosa che è slow Bello Lui ti piace che è nata in un'altra mappa Tutti contro di me guarda Questa dovevo attaccare Io me ne sono fatti 3 Cioè adesso sei lì Adesso No infatti E quello è bello Però nessuno mi ha seguito Io praticamente non stavo neanche premendo niente Mi ero lasciato lì A un certo momento ho lasciato lì a me Nabe che dico Tanto questi stanno lì a fan cazzo Dopo è stato a mettere trappole a caso Perché è super bello Mettere trappole Ti ha fregato però E ancora altre ulti Non è possibile che Almeno cooldown Della ulti di me che muovo Ci sono ci sono Andate via Cos'è che c'è per gli add carry Per sloware Il progetto è male Cos'è? Ma no Come cazzo mi prende? E che non mi ha tirato un'inforza? Questo sfrutta Cazzo Fra non è Fra non è Non è una lotta Per prenderle tutte Tutte le hai prese Non è così Oh oh Io ho sbagliato qualcosa Mi sono trovato giusto in mezzo a loro Occhio l'ulti E' enorme Sì infatti Ma dai Ma mister Ecco vabbè Cioè ero qua La sua ulti Prendeva d'acqua A qua Eh ma è widescreen La sua ulti È per quello È 21 noni Hai visto? Cioè Hai visto anche te Sì sì No ma è così Peccato Nota male anche questa Cioè